e niente come sempre lo scendiamo io direi sempre ah ma troppo lontano davide è il capo dai davide io direi qua ma non ci sono le lenti non ci sono le lenti va bene dai guardo proprio 22 volte ho deviato dove sono? mi sa che ora ci tocca prendere la classe che scendereà dal cielo ah sui palazzi alti o sotto? il tiro con l'rpg ma porca abbiamo già una taglia neanche iniziato tra i tre minuti si ma all'infinito prendo sta bandiera che c'è qui per portare la bandiera abbiamo fatti solo avanzate alla prossima area e mettete in sicurezza andiamo è lontanissimo cazzo abbiamo un lanciatore che spaventro mi stava più paracaduto oh chi è questo? questo è tuo chi che spara? non c'è sono entrato ok è sceso dentro può una casa cercare armi poi andiamo a fare ricordiamoci che sta lontano il tempo non è molto siete messi a studio io c'è io zero di riserva tre applicati andiamo verso la bandiera si si andiamo non è che ho grandi armi ho trovato un fucile d'assalto ho trovato un fucile d'assalto ho visto qualcuno scendere l'ondananza aspetta però aspettiamo che ci siamo tutti c'è una corazza qui intragnatrice leggera qui mi traglione arriva il gas mi sa che se mettiamo tutti i soldi insieme ci esce la classe proviamo sta qua il carrello vogliamo fa? si lascio i miei soldi col carrello il nemico vi ha perso di vista siate al sicuro altri soldi ottimo bravo Davide chi spara? chi spara? eh da dietro a te? non l'ho visto si vieni a lasciare i soldi qua l'ho visto io oh dal camion nel camion ecco 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 aiuto craccato eliminato ma non credo fosse l'unico qua qua a terra a terra morto ce n'è un altro morto un po' ce n'è un altro qua è vivo ancora? è dietro adesso è l'ho sotto la corazza però l'ho messo a terra aiuto mi deve finire per forte mi deve finire sta scappare sta scappare seguitelo mi deve finire per forte non c'è non c'è proprio scampo scampo perché mi deve far spendere i soldi per farmi rientrare scontro iniziato eliminato ma non stimano a nientà intanto prendi tutti i soldi che ho lasciato io e quelli che ho lasciato lui eh non ce la facciamo fare la bandiera pazienza ah i soldi ce li abbiamo i soldi ce li abbiamo prendete la classe prendete la classe c'è un tacco i soldi spero dove cazzo sta hai trovato il glitch ma io non ne fossi non ce l'ho fatta ma non ce la puttana non ho capito il cazzo stava non è ancora finita il tuo tempo a pagarti mi dispiace devo delvenito di voi farmi rientrare qualcuno vuole la classe io la voglio io la voglio possiamo aspettare di vedere dove c'è ah vabbè possiamo pure aspettare però rimaniamo qua allora dai no ma mi riprendo un po' di armi da cazzo occhio da dietro che spara da qualche parte eh tipo un cecchino mi sa che è da questa parte eccolo lì ho bisogno di armi ho bisogno di armi cazzo nemico 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 qua nemico qua via via io non ce l'ho niente io non ce l'ho niente copritemi nemico qua dove da dove stavo l'ho pindato rosso io non ce l'ho niente aiuto da quelle parti in là è meglio che compriamo la classe ti prego perché sto solo con la pistola si 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 comprata no un attimo si che corre qua si spara io no eliminato buono io siamo alla classe è venuto qua è venuto qua a trovarmi avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo però non team eliminato quindi ovvio che c'è ancora qualcuno in giro posso far abbattere anche quello a po elicottero qua c'è un rpg se non sbaglio a terra guarda come va giù bastardo si ti credo l'ho ammattato io le hai fatte esplodere sta bene merda rimpi pari dai metto esplodere si si mi ha dato a terra e doveva ancora scendere ho posto ok che bisogna di munizioni quindi in teoria c'è ancora uno che era qua vicino a noi pochissime armi c'è pochissime munizioni vabbè è una stazione di polizia dove possiamo caricarci qua vicino qua avanzo che compriamo quei soldi che abbiamo niente mi servirebbe soldi per la piastra se mi potete da 300 dollari vieni quante do io le piazza non stanno non stanno avete colpi c'è una corazza qui io quei colpi sono posti noi ci sono pochi se vi servono di che tipo il movimento per l'n13 quindi boh credo siamo questi quelli d'assalto arriva una macchina un quad un quad lo possiamo uccidere il quad non è coperto spariamo gli insieme vai la terra eliminato prendiamo gli soldi era solo quello non mi dice che è eliminato la macchina sono scelto 4 facciamo gli avvicinati avvicinare facciamo gli avvicinati io non compro un uo v tu quei soldi magari io uo v uno a terra un altro a terra due morti due morti morto buono comunque stavano a sparare un altro team stavano a sparare quelli bene tutti sti soldi ottimo quelli lì ne hanno lasciati parecchi anche quella sulla collina io non vado a prenderli oh qualcuno ha sparato no ho sparato io era un uo cosa dica a cui ha sparato l'unico problema del non aver fatto l'unico problema del non aver fatto le lenti e che non abbiamo i zaini oddio ah vabbè io c'ero lo zaini io comunque non so se comprarmi la maschera di castle o o l'autoress o autoress tutta la vita non mi bastano i soldi per l'autoress guarda aspettiamolo quanto vuoi costami 4.500 vabbè andiamo avanti troviamo una bandiera 7.000 te le do la viene prende ma tu ce l'hai l'autoress qui c'è un po' di grana ma faccio a meno oh ma faccio a meno occhio c'è gente sul tetto la via la via ho pingato la via sul tetto l'infame eh ne sta atterrando uno anche là io direi di avanzare verso il centro eh dai ne avanziamo o aspettiamo o avvi nemico in volo strada facendo ci facciamo una bandiera o avvi nemico in volo ci avete tutto il fantasma? no ora cosa dice io ho uno avvi se volete ok no uno sta sopra il tetto qua quello che hai visto tu quello lì forse dai si è sul tetto che ci lanciano in c4 può lanciarci in c4 ci arriva? no ma ci sta arrivando gente da dietro ricevuto io mi metto qua nel garage così se li prendo da dietro magari vanno verso i luoghi gas in arrivo nuova zona sicura contrassegnata che direzione? ti aspettiamo tutti qua è dato un'uccisione confermata da un po' di chi vado di qua ah magari si c'è si spesso ho tenuto il bombardamento ho tenuto il bombardamento state al coperto infatti a tremero quello lato stiamo sentando lì si no in che direzione? si mi hanno sbagliato mirare allora in che direzione te lo segno quello 32 metri ah ah quello qui è il tetto 1 a 26 metri guardo laggiù sento correre mi sa che tra un po' arriva qualcuno chi che spara? dov'è? mi muovo 20 metri lì eccolo eccolo solta corazza morto finitelo l'avete finito? è qua dietro là nemici laggiù gas in arrivo non l'avete finito? non l'avete finito? non l'avete finito ma non è morto no spero che non l'aggiatore esco ce n'è un altro dietro e occhio che si tirano su sti qua un morto che ti l'ha tirato io no è qua è qua da me è qua da me uno a terra morto uno ce n'è un altro 25 metri per di qua mi dico vado laggiù eccolo 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 con l'RPG il maiale senza colore no ma si tira su sta merda si sparano ma dov'è? no ho fatto la stronzata ho fatto la stronzata allora l'ho ucciso copitemi 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 bravi no proprio l'ultimo momento ma finito che paglia occhio occhio dov'è? eh non lo so non l'ho visto più paura il silenzio carrello il carrello più vicino è qua ormai è che ha bisogno di piastra quella roba mia maledizione se fosse vicino il carrello scenderei qua c'è una corazza qui non è che uno ci può andare al carrello mi fa rientrare così riuscendo qua eh aspetta l'uovi ce l'hai ancora il mio grau no basta l'ho lanciato l'uovi ma dove cazzo è che sparano? è che non siete che non si è il silenziatore stazione medica può servire chi è che c'è i soldi? Davide c'è i soldi andiamo verso il centro? vediamo di arrivare vivi alla chiusura del cerchio io vi chiedo se ce la fate a farmi entrare subito così mi riprendo il mio grau prima che il cerchio che il gas lo invade possiamo di morire anche noi no se potete farlo perché se scendo con la pistola non è che mi piace tanto attacco a grappolo alleato in arrivo stazione medica si andiamo avanti io ho lanciato l'attacco a grappolo guarda il carrello adesso è il carrello stanno beh contando se dobbiamo andare di là potremmo magari passando dietro al muro oh io mi butto quindi sul mio equipaggiamento? eh fra i 30 secondi si chiude non ce la farò mai Cristo Cristo ma magari ricade un altro equipaggiamento dal cielo la cassa lì dentro non c'è un cazzo ma che c'è gente qua? avete del gas in arrivo? sotto dove affingate? così vi riguardo dal cielo scendo no no ma dietro ti è manientato? fai questo andato? no beh sì c'è il calibro qui Mario ah sì? fai prendermi il roba fai prendermi il roba a me mi hai fregato la maschera alzati dobbiamo andare eh con lì hai lasciato un po' di roba st eh qui c'è una pistola mi posso dare rialzo? eh mi bella mi dobbiamo se ci arrivo qualcuno no si potremmo anche aspettarli guardale qua c'è un nemico qui dove? l'ho visto sul radar, il punto rosso eccolo qua dietro, qua dietro oh, sparate e gli vado da dietro è bella l'azzata c'è un cecchino ucciso uno ucciso, ti mi è niendato andiamo, andiamo gas in arrivo, spostamento della zona sicura vado laggiù eh lo so eccolo, ecco è uscito, è uscito malaggato però, è uscito corazza tolta oh l'equipaggamento oddio, equipaggamento ci sto andando chi che spara? mi spara? è sempre lui forse ho uno o qui sono io sono due mi coprite? mi coprite? mi coprite? mi coprite? mi coprite? arriveranno io andrei su via via dentro c'è un nemico qua dentro c'è gente dentro bastardo bastardo la maschera la maschera la maschera è mia mia avete piastre? e io c'è una in più qua c'è un sensore battito cardiaco quasi quasi me lo prendo dai dove sono? dove sono? vado di qua uabi nemico in volo cecchino la casa laggiù qua giù c'è la casa un cecchino la finestra se avete claymore io le metterei qua c'è gente qua in fondo ma sta casa qua aperta non è che mi piace a me meglio beh qua lì sarebbe il topo c'è qualche nemico sulle rocce qua davanti a noi mi sa c'ho paura che arrivi giù c'ha vede claymore? gas in arrivo nuova tra la sicura contrassegnata Giova Perino tu ce l'hai? c'è gente di là che va dentro la casa e uno prima l'ho preso secondo me ci sono nemici su quelle rocce là ho visto i puntini rocce e dovremmo andare su un'altra casa un po' più in là forse andiamo? da questa parte andiamo? la tentiamo mi sa che abbiamo gente sia da un lato che dall'altro mi sa che sta ce n'è qualcuno il paracadotto questa qua questa qua vado laggiù arriva il gas eccolo qua uno a terra morto ho sparato un altro ce n'è un altro da qualche parte eccolo là uno che scende là cazzo chi è che spara qua? eh finca sono senza piastre a terra uno no la Sakura uno alla finestra uno alla finestra la spalla qua il RPG il maiale a terra a terra oh stiamo nel cerchio guarda un po' speriamo che non c'erano l'autore queste merde che sono atterrati due tutti e due ah uno è morto io ho messo la claimer dietro la porta se venite tutti qua dentro gas in avvicinamento io sono dentro il cerchio e noi stiamo qua dentro sto garage oh quattro squadre siamo siamo noi quattro più altri cinque divisi in quattro squadre è vero? temici qui qualcuno a 38 metri da questa parte morto uno vinciamo vinciamo lo dico vinciamo sai che quelli là sono fuori ok fate attenzione a quel lato lì era uno è qua da questa parte gas in arrivo alla nuova zona sicura c'è le maschere? completate la missione eliminateli no cazzo state là state là guarda se vuoi ti dico dove are sono in due sono in due dove sono io sono in due tre tre ce ne sono cinque rimasti uno subito qua sopra avancio siamo in quattro tre contro uno tre contro uno abbiamo vinto abbiamo vinto cazzo 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 bella ottava vittoria wow ma me la reggi ha detto l'italiano? no vada qua vada qua vada qua